Ciao a tutti ragazzi e benvenuti con Giorgio Mare Oggi ragazzi siamo qui con un poco opening Incredibile con Serie A Toz e Ligant Toz Ma quanti siamo ragazzi? 1,2,3,4,5? Siiii! Ci siamo tutti oggi ragazzi Sono usciti due, dico due SBC con un Toz Come elementatino siamo due Siii! Anche quattro forse Hai fatto una battuta Che sono uno della Serie A e uno della Liga Ancolo della Serie A L'ho già riscattato dalla fretta Ma quello della Liga Ancolo della Serie A Eccolo qui Squadra della stagione Calcio A ragazzi Eccolo qui Questa è la squadra che andiamo a dare Micello non è scambiabile Quindi glielo do e chi se ne frega Spero da chiaramente Magari lo ritroviamo O magari li troviamo più forti Visto che lui ha solo 89 Magari troviamo un 97 Magari eh Un po' più argentino Quindi andiamo subito ad aprire questi due pacchi Magari argentino O argentino ci sono C'è demanda me Argentino solo Tibala E Higuain Higuain Partiamo prima dalla Ligana Sperando che esca La brasiliana La brasiliana Uruguayana Francese Un po' più Due Tre Dai Tati Mi fido di te Tati Per favore Questo lo avrei coronato Che non c'è Camoia Per favore Per favore Per favore Per favore Portogallo Lopes 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 91 giusto? Non è malvagio Per favore Il portogallo E' per quello che è uscito a portogallo L'ho aperto con Per favore Ma ti ho fatto tanto a te Che cazzo di dici no io ho sentito rumore e cosi dai andrea lo facciamo senza questo è la prima con gonzalo 1 2 3 però uno e meno di valutazione ti prego l'argentina 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 il corazon dell'arzentina te prego argentina ben andiamo però passi una cosa questo è devastante è una merda però è devastante come una merda di un game questo è 94 bella la mano che esce fuori dal pacchetto è la che dice gg per i grafici dei iei esatto vedete lui come grafico infatti molto meglio esatto comunque ragazzi mi ha trovato ben attiva abbiamo trovato lopez abbiamo trovato altri toz che adesso vi farò vedere quindi ecco qui tutti i toz che mi hanno trovato in live aaaaaaaaa vabbè si da me l'abbia un pacchetto buono estimm per la nostra plantiglia del toz un toz eiff e non la plantiglia un culo o beffino un culo o beffino no italiana no e rossi No, la spalla Viviani! Viviani, un applauso per Viviani! Ciao Viviani! Buon ruoto, riduo a fuoco! Aspetta, ci sono fidanzia a Tozze! Deve essere veramente il numero di tozze! Indovina chi! Oh, te lo giuro! Vedi, si dice! Oh, hai messo una volta detto in Tozze! Oh, 86! Capito? Che sboccio! Ha messo Ronaldo ancora avanti detto in Tozze! Veramente, ha messo Ronaldo ancora avanti detto in Tozze! Ha messo quello da 100k, veramente? No, no! Ah, no, ha messo quello là, no! Cavani! Vecino! E' vicino! E' vicino! Se non è vicino, lo devo aprire, dammi co! Non lo apro io, dammi co! Io ho trovato due volte la magna! Oh! Ovvio if! Io lo vorrei dire! TANI COMBARENZI AL KICK DI PINFA! Siii! Questo è un dissing, non si fanno i dissing! Pozza! Ma Dio MUEU! Marso! 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 Qua c'era più freddo? Ma che? Marso! Fa una cosa, aprimono da 55! Ma è serio? Brasile! Jake e Mast! Miranda! Diego Silva! No, no, non gioca più nel mezzo! Ah, Miranda nemmeno l'hanno fatto! Troz! Troz! Pronto? Uuuu! Uuuu! Sio! MEEEEEEE! Ma è scelta! Mi parti dubbo! Mi parti dubbo! Un ritardato al quadrato! Ma è scelta! Nooo! Suevi no no vai oddio si manca niente tutto uomo marzo uomo marzo un risultato più adesso che per lo sudetto per i 600k bella vecino ma c'è la nove piuttosto culo culo hai detto che c'è anche ciao non c'è ciao come si chiamano uno due tre oh mario devi pregare solo per la bandierina bandierina buona o tenesco o spagnola ma ne no sanino il 91 può essere il lozano eh è l'unico ma che lozano il lozano potrebbe essere anche un giocatore più scarso oh mar fai una cosa secondo me devi fai così guarda mettiti questo qua davanti e non guardi uno tanto ti diciamo noi chi è vai indovina chi ma indovina chi facciamoli indovinagli vai ma tanto non vedi no dove siamo adesso bravo e andiamo così vuoi vendere e vediamo quanto vale Omar dai ti prego ti prego tedesco o spagnolo così sono sicuro che vuole per favore dai portoghese a te ti fa il cao fa il cao di me 93 sotto ce ne può essere uno buono no ma no ma che si fa il 10K una questa corresca ma vorrei stare su 92 dai almeno io in Curva b ci posso andare bella dai dai lalbero ma ligano tutte e due adesso ragazzi andiamo a spacchettare come animali su foot galaxy perché ragazzi su foot galaxy almeno scoliamo rimane in video descrizione Omar ovviamente se volete spacchettare che vuoi come animali Ditto ciò partiamo subito col botto Andrea e ti lascia subito per il pacchetto che vuoi tu Uhhh 750 mila Fisge, porti che ci spegne Lorenzo, io ando dalla scossa Ayo Ederson e Renzo Stanley, ok Più 135 Oh, ma poi me li devi Va bene, poi ce li passiamo Andiamo dentro con un altro pack Vediamo un po' La 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 13k Henry Finché siamo in positivo, va bene Si, si dimmi tutto Si, si dimmi tutto Si, si dimmi tutto Si, si dimmi tutto Si, ok Ok, tu tu Pogga da 500k ragazzi Dai, dai, dai Guarda, me non mi li ho David Silva Oviedo Sio Dembele Nooo Vabbè, quasi, quasi Comunque siamo in positivo con quelli che abbiamo avuto Esattamente Dai Vieni Vieni Pogga da 750 Vieni, vieni tu Ti metto già Tony, vieni, vieni, Tony Open Open Oddio Super Tonga Asensio William Hitman Guarda No, ti ho tirato No, ti ho tirato Oh, ti ho tirato Allora, ti ho tirato Così, 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 ti ho tirato Per vergogna Tony, vai te, dai Spremo io il bottone Dove sta? Spremo il bottone Ecco, guarda come si dice Mauritto 820 Già, ti ho tirato Oh, Lorenzo Lorenzo Terenzi Oh, 7k 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 Io non bello mai Allora, Tony, è appena un altro Un po' a coro Vai, Tony, vai, Tony Ti sono la premio Questa fatica Madonna Shaikh, Varan, Miranda Dovremo che dire Verratti Come andai PERO SPAMO SPAMO Bossa Si muore Tony, tubo, regna Non posso fare niente Ma, Tony, tu sei troppo forte Io, regna Tu, vai, dai, 750 Vai, Omar Vai, Omar Vai, Omar Subitone Ma era un 750 Oddio, Rashford Werner, dai, un altro buono Yermoling Go, buono Che minchia Meglio di Tony Un milione di due, raga Non garantia di nuovo Meglio di Tony Perché Tony ha avanti Un milione e cento e cento e cento e cento Ah, mia pitta Vediamo chi fa il pacchetto il più grande Trippi Oh Ripa, ok, va Va Oh Eccolo Vai, Tati L'argento da di Smaicolo Oh, ma meglio No, 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 no È il serio Tony, Tony Grazie, Tati Sì Devo superare i 3 milioni Oh Oh Icardi, la sembra, Tati, la spacchi, non ti appoggiare Iniesta Sotto 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 a tutti, Tati C'è cattolato, Tony, Tony, il primo Baduzza Oh Oh Baduzza Ma show like se anche tu pensi che sia baduzza e no baduzzi Come si chiama? Maciuai Eh Quindi ragazzi mi raccomando se volete spacchettare anche voi come animali Food galaxy, primo link in descrizione Scaricate come al Futbol, passate dai canali tutti questi elementi qua Bella Quindi da Oma Soprattutto il suo C'è 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 più massa a terra che nell'area atmosferica Cosa che ti hai fatto? Ma io sono video Eh no, io sto registrando qua Ma io ci ripetiamo al prossimo video, bella ragazzi Che cazzo non lo fa? Tati ma io vorrei chiedere quale era? E ora con voi chissate Si attrava sola ma che... Che tanti? Si attrava sola toi A pietre a pietre Tati ma che cazzo stai facendo? Ma che c'aveva la tenza? Ah, spero, ma... Ah, notte il cazzo della lampada di merda Ma non ce la tirava giù Tatti, ma che hai fatto? Che merda Ma fa la culo Tatti, che hai fatto? Pratico, l'ha fatto cadere Sì, sì, e ci vediamo Sì, è un resistente Non scattava di più E ci vediamo, a prossimo La reazione di Mr. Orlando